Ciao a tutti, oggi parleremo di come generare testo Lorem Ipsum in Python utilizzando la libreria Lorem. Il testo Lorem Ipsum è spesso usato come riempitivo temporaneo nei progetti di impaginazione, design grafico e sviluppo web. La libreria Lorem semplifica il processo di generazione di questo testo fittizio. Prima di iniziare, assicuriamoci di avere Python installato sul nostro sistema. Se non lo avete già, potete scaricarlo dal sito ufficiale di Python. Passo 1. Installare la libreria Lorem per generare testo Lorem Ipsum. Useremo la libreria Lorem che ci consente di creare paragrafi, frasi e parole casuali in stile Lorem Ipsum. Per installarla, apriamo il nostro terminale e digitiamo il seguente comando. PIP install Lorem. Passo 2. Importare la libreria e generare il testo. Apriamo il nostro editor di testo preferito e creiamo un nuovo file Python. Iniziamo importando la libreria Lorem e generiamo il nostro testo Lorem Ipsum. Ecco un esempio di codice. Python. From Lorem text import text Lorem. Creiamo un'istanza di text Lorem Lorem generator uguale text Lorem. Generiamo un paragrafo di testo Lorem Ipsum Lorem Paragraf uguale a Lorem generator Paragraf. Stampiamo il paragrafo generato print Lorem Paragraf. Passo 3. Personalizzare la generazione. La libreria Lorem ci permette di personalizzare la generazione del testo. Possiamo specificare il numero di parole, frasi o paragrafi da generare. Ecco un esempio. Python. From Lorem text import text Lorem. Creiamo un'istanza di text Lorem Lorem Generator uguale text Lorem. Generiamo tre frasi di testo Lorem Ipsum Lorem Frases uguale a Lorem Generator Sentence 3. Stampiamo le frasi generate print Lorem Frases. Conclusione ecco come generare i testo Lorem Ipsum in Python utilizzando la libreria Lorem. Questo può essere utile per riempire temporaneamente gli spazi di testo nei vostri progetti di design e sviluppo. Ricordate che il testo Lorem Ipsum è privo di senso, quindi sostituitelo con il contenuto reale quando il progetto è pronto per la pubblicazione. Grazie per aver seguito questo tutorial. Spero sia stato utile e vi auguro buon lavoro con i vostri progetti. Mua. Mua. Mua.